Benvenuti all'appuntamento di negozi in tv 2020 un saluto da Trisha Manilas mi trovo in quelli di Massa Insatico presso via Cilloni al Civico 1 barra E F mi trovo da riflesso di te questo incontro con la possibilità di poter capire quanto di più bello ci sia nel volersi bene ed insieme a Nelena Zanni percorreremo in questo appuntamento tanti punti importanti che a tutti noi donne ma anche uomini sono sicuramente di aiuto ora le immagini ad Elisa Paderni noi ci vediamo tra qualche istante buona visione insieme con Nelena Zanni all'interno di riflesso di te come ogni anno gli appuntamenti con la salute con il benessere con la bellezza con la prevenzione sono sempre di casa in questo nostro primo appuntamento perché vi voglio già anticipare che ce ne sarà un ulteriore dedicato totalmente alla salute al benessere di tutto il corpo e anche di alcune patologie specifiche ci soffermiamo su quello invece che è il giornaliero per cui capire un po più da vicino cosa bisogna fare per avere un corpo tonico e vivere bene con noi stessi buongiorno a tutti sono Elena Zanni estetista di riflesso di te oggi volevo portarvi alla luce dei nuovi trattamenti che abbiamo qui in istituto sono trattamenti di ultimissimissima generazione e sono stati presentati al congresso nel 2019 della dermatologia di Milano e fanno parte praticamente come dico io di un ottimo e di un bellissimo connubio tra la tecnologia che fa parte dei cosmetici e anche la mediterraneità delle loro componenti il concetto della mediterraneità a me piace da morire sicuramente incuriosisce anche i nostri amici da casa per cui andiamo un pochino più nel dettaglio allora sì mediterraneità perché come vuole comunque la tradizione di un cosmetico dentro a quello che fa parte della di una composizione di una crema sono appunto oltre l'acqua anche i grassi vegetali grassi buoni che si possono e si dovrebbero trovare dentro un cosmetico in questo caso dentro ai prodotti che sono arrivati da poco nell'istituto siamo possiamo trovare tantissimi oli vegetali come l'olio d'oliva l'olio di macadamia mais e jojoba e soprattutto un ingrediente particolare invece che la fa da padrona che è la mastica la mastica è una resina che però è comunque tra gli attivi cioè tra i prodotti funzionali della crema che ha un effetto particolare antibatterico e anti age che dopo lo vediamo insieme dove vengono prese in considerazioni alcune di queste di questi oli particolari alcuni di queste specifiche fragranze e dove possono avere un'interazione benefica con la risposta del nostro corpo allora i principi attivi che ci sono dentro ai prodotti che vediamo qui esposti perché parleremo specificatamente di loro sono di origine vegetale ma soprattutto abbiamo una molecola brevettata unica nel suo genere che è la composizione di tre altri nutrienti è una molecola che fa sì che venga aiutata alla produzione di collagene il collagene di tipo 1 cosa che in altri cosmetici invece non è replicabile e va solo stimolato quello che è la crescita interna a livello nostro cellulare di questo tipo di collagene che non è più formabile come dicevo da cosmetici esterni ma cos'è questa molecola è acido ialuronico abbinato al silicio e abbinato la carcinina insieme queste tre molecole spingono la formazione di collagene tipo 1 ci fa migliorare il tono della nostra pelle ci fa migliorare eventualmente anche la cicatrizzazione qualora ovviamente la cicatrice sia già chiusa ma per migliorarne ancora di più l'aspetto la morbidezza e da un effetto anti age molto importante anche su quello che è lo stress ossidativo abbiamo un primo trattamento di igiene della pelle quindi detersione impacco col tonico alla mastica un buon peeling e poi passiamo alla fase centrale del trattamento un impacco già di silicio lo togliamo applichiamo il siero con la sil che è proprio caratteristico di questa linea che dà questo a questa forte azione anti age facciamo applichiamo un vello di un vello ricco di resina di mastica questa resina greca che ha un'azione anti age e antibatterica antiossidante contro lo stress ossidativo eccezionale e un buon massaggio finale con la crema colasil anche questa ricca comunque di nutrienti che dà un'azione diciamo di morbidezza proprio dovuta ai suoi grassi buoni grassi vegetali alla pelle Elena siamo giunti alla fine a te la chiusura in conclusione di questa puntata vi dico che il trattamento può essere ideale per le persone dai 40 anni in su per le pelli molto stressate avvizzite per le pelli che sono esposte continuamente al sole che tendono a perdere comunque queste sostanze che la pe che la crema invece in realtà va a reintegrare oltretutto abbiamo un nuovo sistema di aiuto per le unghie un gel di ricostruzione che è a base di silicio quindi non danneggia l'unghia anzi la rinforza e lo potete trovare nel nostro istituto in abbinato ancora di più c'è colasil integratore cioè l'integratore della crema quindi immaginate l'insieme che bomba è per unghie capelli e pelle quindi acido ialuronico silicio mastica e carcinina tutto in un unico prodotto sono qui a riflesso di te e vi aspetto con le vostre pelli da poter valutare decidere insieme quale trattamento fare ciao devo dire che in questo appuntamento abbiamo fatto delle tappe importantissime saperne di più sul rituale del se fa bene a tutti fa bene alla salute ma fa bene anche alla salute della mente non solamente a quella del corpo a meno rimane altro che dirvi ancora una volta seguiteci anche sui nostri social negozi in tv per quel che riguarda il discorso legato ad instagram e a facebook e tdm staff per vedere tutti i nostri video ovviamente i nostri passaggi di tutti quanti gli appuntamenti con negozi in tv al prossimo ora la linea torna alla rete